Musica Musica Che profumo! Buongiorno, puntata dedicata alla lavanda, questa di Agricoltura Veneta, benvenuti. Mi trovo sul Delta del Po, mi trovo all'isola della Donzella e mi trovo con questa produzione che vediamo dalle immagini fantastiche del drone. E sono con Fabrizio Cavallari, che è vicepresidente di Ciero Vigo. Che c'entra la lavanda col Delta? Innanzitutto siamo nel parco del Delta, dove abbracciamo il mare, abbiamo la sacca di Scarnovari e siamo nella frazione di Camello di Portotolle, dove c'è il signor Masiero che ha pensato di mettere giù la lavanda. E direi che è stata una cosa fantastica anche per il turismo che ha portato nel nostro territorio. Noi ne abbiamo bisogno, visto l'afflusso di queste presenze che sono arrivate da tutte le parti d'Italia per apprezzare, per vedere questa lavanda nel nostro cuore del Delta, direi che è stata una cosa fantastica. E noi siamo orgogliosi che persone come il signor Masiero abbiano queste idee, così oltre ai nostri prodotti valorizziamo anche tutto il nostro territorio. Grazie, adesso i titoli e poi sentiremo dove parte questa idea. Sul Delta del Po la scommessa di una famiglia che converte i campi di mais in filari di lavanda. E subito un luogo sconosciuto come l'isola della Donzella diventa meta di turisti, fotografi e appassionati di quella che viene ribattezzata la Provenza Veneta. Il Cile accoglie la domanda di registrazione del marchio Asiago di un'azienda statunitense e subito il consorzio di tutela berico presenta ricorso, mentre il Ministero degli Esteri teme una guerra al ribasso sui nostri marchi in tutto il continente americano. Camminare ogni anno dal tagliamento fino a Chicago per trovare ed eliminare le barbatelle estranee alla produzione. È l'arte dell'ampelografo, garanzia di qualità nella produzione dei vivai cooperativi Rauscedo. Dalle montagne Venete un rimedio per le malattie bronchiali, con le pigne del pinomugo, albero o simbolo contro le frane, lo sciroppo che ci aiuta a respirare meglio. Crescita in doppia cifra per il mercato americano del Prosecco Doc, merito anche del Rosè che ha saputo rivitalizzare il mercato di fascia medio-alta, ulteriore segnale del consumatore statunitense che punta sempre più su produzioni di maggior pregio. Mani sapienti per un oggetto immancabile nei nostri orti, la cesta in ferro raccontata da Gianni Marini, utile non solo per raccogliere le verdure ma anche un metodo pratico per lavarle e asciugarle. Magnifico davvero il profumo di questa lavanda, bellissime le immagini dall'alto, sono con Michela Frisio che è l'ideatrice nonché la titolare dell'azienda. Perché qui, qui a Camello, qui nell'isola della Donzella avete deciso di fare questa coltivazione? Perché nel 2008 ho acquistato questo terreno qui all'isola della Donzella e quando mi ha portato mio marito a vedere questo terreno era seminato grano, quindi era una distesa completamente verde e qui io ho respirato pace, serenità, tranquillità, una sensazione di benessere indescrivibile e quindi mi sono proprio innamorata letteralmente di quel luogo. Una volta terminato di pagare i mutui insomma, ho detto beh investiamo di nuovo e quindi abbiamo deciso di impiantare una pianta che poteva rendere quel luogo ancora più bello, che ti dava ancora più pace perché proprio la lavanda comunque e trasmette in sé, ha delle proprietà rilassanti. Ecco per me questo era il massimo, quindi ho pensato alla lavanda per quello, non ho pensato alla provenza, ho pensato a quel luogo e a quanto potesse essere e diventare bello. Com'è bello il delta, il delta, da questo lato del delta è una cosa fantastica, meravigliosa, trasmette pace, serenità, in mezzo alla natura, senza case, veramente fantastico, almeno questa è l'emozione che mi fa provare. Come avete sentito è un'emozione che arriva dal cuore, che continueremo a raccontarvi dopo le notizie. Stati Uniti, primo paese importatore di Prosecco Doc con un incremento del 16%, merito anche del Rosè che ha saputo rivitalizzare il mercato di fascia medio-alta. Dopo l'effetto penalizzante della pandemia nel 2020 che ha arrestato la crescita e comportato una contrazione dei consumi, nel primo quadrimestre di quest'anno le esportazioni di Prosecco Doc evidenziano una crescita in volumi, con un trend importante anche per il prezzo di mercato sullo scaffale. mediamente sui 13-15 dollari la bottiglia per la bollicina di pianura. L'attacco è arrivato sul diario ufficial del Cile, versione sudamericana della Gazzetta Ufficiale, con la domanda di registrazione del marchio asiago avanzata dal consorzio statunitense CCFN con l'obiettivo di preservare la capacità dei produttori e dei consumatori di tutto il mondo di utilizzare i nomi comuni, proteggere il valore dei marchi riconosciuti a livello internazionale e prevenire nuove barriere al commercio. Il consorzio di tutela Berico ha già presentato ricorso e la Farnesina, attraverso l'Ufficio della Difesa Commerciale, ha paventato il pericolo che la registrazione indebolisca gli sforzi negoziali intrapresi dall'UE nella trattativa sull'aggiornamento dell'accordo di associazione con il Cile, tanto da evitare le realtà interessate a presentare l'opposizione entro 30 giorni all'Istituto Nazionale de Proprietà Industriale. Con una media di 36 centesimi per litro, il latte Veneto è tornato ai livelli di commercializzazione pre-Covid. Lo riporta Veneto Agricoltura in un suo nuovo report, sottolineando come le progressive riaperture di hotel, ristoranti e catering stanno cominciando a riequilibrare i canali di vendita. Le previsioni di un ulteriore miglioramento per il latte arrivano anche dalla maggior vivacità del mercato mondiale. Infatti, da una parte troviamo un aumento di richiesta di prodotto da parte della Cina e dall'altra una minore disponibilità di latte neozelandese, nonché una flessione della produzione da parte dei paesi europei più lattiferi, aspetti questi che hanno già fatto aumentare il prezzo del latte mediamente del 5%. Le imprese agricole rischiano di trovarsi a ranghi ridotti in un momento delicatissimo della stagione, per la mancata proroga di permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia. Solo in Veneto, ricorda Coldiretti, la manodopera stagionale, in particolare da Africa, Asia e altri paesi non comunitari, nel 2020 ha fatto registrare 29.000 assunzioni, di cui 13.000 nel periodo della raccolta di uve e della frutta nel terzo trimestre. Per questo il presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini, ha scritto una lettera al ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, per chiedere un intervento immediato. Michela Friso, voi avete cominciato da poco, relativamente da poco quindi? Sì, abbiamo cominciato nel 2019, a marzo 2019. Nel 2020 abbiamo avuto il primo raccolto. Con un terreno come quello del Delta, che è abbastanza, è molto duro, non è che sia difficile cottivare la lavanda. In effetti ci avevano sconsigliato di piantare la lavanda, per il terreno ma anche per il luogo, perché è vicino al mare, perché ci avevano detto che avrebbe avuto alti livelli di canfora e quindi l'olio sarebbe stato un po' meno pregiato. Invece abbiamo avuto, dalle analisi, a pochissimi livelli di canfora, quindi un ottimo olio. La nostra pianta di lavanda, in quel terreno lì, seppur forte, molto forte, ha dato degli ottimi risultati, una bellissima fioritura, che ha incantato anche parecchia gente. Dalle foto i curiosi sono venuti ad ammirare e abbiamo avuto anche diversi ringraziamenti, ma anche per la bellezza del luogo e per la sensazione che hanno respirato nel vedere questo campo così fiorito e rigoglioso. Possiamo dire che è diventata un'attrazione turistica in un territorio che il turismo non aveva praticamente nulla? Sì, per me è una cosa inaspettata, non voluta, non pensata, però probabilmente la curiosità e la bellezza del luogo, ma anche del delta, ha attirato tantissimi turisti, sì, si può dire. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, prima però un servizio di Rauscedo, le barbatelle e la continuazione della vite e dopo continueremo a raccontarvi la storia di questa lavanda del delta. Un ampelografo è un personaggio, perché nel mondo ce ne saranno una quarantina. Un piccolo esercito nel mare di barbatelle dei vivai cooperativi di Rauscedo è quello degli ampelografi, figura poco conosciuta ma molto importante nella produzione delle barbatelle. La parola ampelografo deriva dal greco antico e in concreto significa ampelos, vite, grafia e descrizione. In sostanza queste persone riescono a individuare di che varietà si tratta, quindi è un controllo di qualità molto importante che garantisce al viticoltore che acquisterà le piante prossimo anno una purezza varietale 100%. Loro verificano che ad esempio in questa parte del vivai coltivato Sauvignon ci sia tutto Sauvignon. Eventualmente si trovano delle piante inquinanti, cioè diverse, verranno eliminate in seduta a stante. Un bravo ampelografo comincia a fare bene i propri mestieri dopo 5-6 anni di pratica e praticamente cosa osserva, osserva l'apice soprattutto della pianta. Come in questo caso la varietà di base è il Sauvignon Ritos che è una varietà resistente nel quale interno si trova una pianta di negromaro. Come si fa a riconoscerla? Beh in questo caso è abbastanza facile per un occhio allenato. Il negromaro ha un apice biancastro con peli come si vede e una foglia un po' di un verde chiaro e opaco. Invece il Sauvignon Ritos ha tutt'altra caratteristica, l'apice rossiccio e foglia lucida e priva di peli. Ecco, questo è una delle garanzie di qualità che forniamo ai nostri clienti. Poi bisogna dire che il controllo empelografico viene fatto anche assieme al controllo sanitario. Sono 1200 gli ettari di 500 pezzamenti controllati dagli empelografi. 30 persone che ogni estate in corrispondenza con il massimo periodo vegetativo arrivano a percorrere in tutto a piedi fino a 8000 chilometri. 8000 chilometri sono dal luogo che ci troviamo fino in America, fino a Chicago. Quindi ogni pianta, ogni metro di questa fila teorica di 8000 chilometri deve essere verificata. L'ampelografo deve memorizzare all'incirca 2000 varietà. Un lavoro che, come gli antichi mestieri, si impara sui libri ma soprattutto sul campo. Nel nostro caso gli ampelografi professionisti apprendono il mestiere dal vivo acquisendo un'informazione da chi è già esperto. È un allenamento che dura diversi anni e per diventare un ottimo empelografo ci metti almeno una decina. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando la lavanda polesana e siamo qui nell'isola della Donzella. Con me Andrea Medea, oltre che essere tecnico di Cia Rovigo e anche componente della comunità del Parco del Delta, senta quanto importante è una coltivazione del genere per attrarre turismo in questo territorio e in questo parco? Facente parte dei prodotti di nicchia, logicamente è una piccola realtà. Questa piccola realtà può dare vita a tantissime altre economie e può far da esempio anche ad altri esempi e suggerimenti. Ecco, secondo lei cosa deve fare allora il parco per promuovere questo tipo di attività che a loro volta promuovono il parco? Allora, il parco finora è stata una grande istituzione che si è mossa quasi esclusivamente politicamente. Di economia non se ne è mai parlato più di tanto. Adesso abbiamo la nuova amministrazione. Speriamo che questa nuova amministrazione con il nuovo consiglio del parco possa rapidamente esprimersi anche nel settore economico. Ecco, diciamo che però il parco ad esempio per il riso ha già fatto qualche passettino in avanti perché c'è il riso del Delta che, come dire, utilizza il marchio del parco. Quindi c'è la volontà di una sorta di connubio tra territorio, parco e produzione? Certo, è sicuramente un'esigenza del nostro territorio, però dopo 20 anni di parco del Delta del Po mi sembra che siamo ancora un pochettino sul pochino. Senta, i giovani e questo tipo di produzioni possono dare una mano al rilancio di questo territorio? I giovani devono assolutamente credere nella nostra agricoltura. Lo devono fare perché è un lavoro, è un mestiere che dà soddisfazione. L'importante è che la diversificazione sia mirata, oculata, perché nella diversificazione riusciamo a trovare dei settori economici nuovi da espandere. Grazie, adesso abbiamo Renzo Gatto e poi andremo a vedere la generazione di oggi e di domani della lavanda polesana. Pino Mugo, conosciuto anche col nome di Pumilio. È un pino cespuglioso però che cresce più in larghezza che in altezza. È, come si dice, prostrato. È un albero che cresce negli anfratti e le sue radici hanno la capacità di ancorare il terreno senza che si formino delle frane. È un albero originario delle Alpi. Perché ci interessa il pino Mugo? Perché dai suoi aghi e dai suoi rametti non ancora legnosi, in corrente di vapore, si ottiene un olio essenziale dagli effetti balsamici, dagli effetti proprio, diciamo così, di miglioramento anche della capacità respiratorie. Come si utilizza? Si può utilizzarlo da solo, mettendo due o tre gocce e un pugnetto di sali del mar morto e si mette il tutto in acqua bollente, dove le emanazioni di questi oli essenziali vengono respirati. Con gli oli essenziali non si devono mai fare aerosol. Con nessun olio essenziale si fa aerosol. Molto interessante e anche molto, come dire, comune è lo sciroppo di pino Mugo. Lo sciroppo non viene ottenuto dagli aghi, ma viene ottenuto dalle pigne, che vanno raccolte quando sono ancora verdi, cioè piene di resina. Diciamo il periodo è fine primavera, inizio estate. Queste pigne vanno messe in un vasetto di vetro, vanno ricoperte di zucchero. Attenzione, non bisogna lasciare degli spazi, diciamo, senza zucchero. Si lascia a riposo per un certo periodo di tempo, che può variare dei due o tre mesi. Si ottiene una soluzione di sciroppo con questa resina di pino Mugo. Questa può essere utilizzata come balsamico per migliorare il respiro per le vie aeree, con uno o due cucchiaini da tè di questo sciroppo due o tre volte al giorno. Enrico Masiero, intanto quanti anni hai? 24. Ecco, a 24 anni perché questa scelta della lavanda? Diciamo che è stata una scelta un po' comune in famiglia. Volevamo rendere quel posto ancora più magico di quanto non fosse. Ma tu che sei uno giovane, stare qui in mezzo al nulla non è un sacrificio? Diciamo che noi veniamo qui in zona ormai da una trentina d'anni con le scuse che il papà fa il conto terzista durante la stagione della trebbia e adesso facciamo anche la stagione della fioritura della lavanda. Quando si deve trebbiare, poi che cosa succede e quando si arriva all'olio essenziale e con che macchina? Si dice che nel momento in cui le api smettono di andare sui fiori della lavanda sia il momento ideale per la raccolta. Una volta tagliata la lavanda viene proprio messa dentro un pentolone, qui viene fatta passare una corrente di vapore che prende l'essenza dalla lavanda, il vapore passa poi a un'altra pentola e ritorna allo stato liquido. Questo liquido è un misto fra olio e acqua, l'olio più leggero galleggia e così otteniamo l'olio essenziale. La rimanente parte di acqua al suo interno ha ancora una piccola percentuale di olio e quello è l'idrolato di lavanda che praticamente è un'acqua aromatica. Questa boccetta praticamente contiene l'olio essenziale, classico da mettere nel vaporizzatore o diffusore. L'olio essenziale di lavanda come principale proprietà ha quella di essere rilassante. Alcuni appunto la mettono nei cuscini prima di dormire perché appunto aiuta magari a combattere anche l'insonnia. Grazie, adesso Adriano Favaretto e poi continueremo a raccontarvi i prodotti che vengono derivati dalla lavanda polesana. Quest'anno si può muovere un po' di più rispetto all'anno scorso, però non dimentichiamoci una cosa, cioè quella di se abbiamo piante in casa, da appartamento o da interni come lo volete definire, dobbiamo portarle fuori, portarle fuori e metterle in giardino sotto un'ombra, l'importante all'ombra e al fresco, però prima di farci questo magari quando le portate giù, guardate se hanno bisogno di essere cambiate di vaso, perché ho in un paio d'anni bisogno di cambiarle di vaso, dargli un po' da mangiare diciamo, no? In questo caso abbiamo un ficus benjamin, molto, come si può dire, produttivo, molto bello, non ha grandi esigenze, non è delicato, insomma, e adesso bisogna cambiare di vaso, io l'ho già sistemato un po', ho tirato via un po' di terriccio, ho tagliato un po' le radici, questo qua va cambiato perché vedete che ormai le radici hanno saturato, hanno mangiato tutto, diciamo, e quindi bisogna dargli anche da nutrire con del terriccio nuovo, fresco, concimato. Ogni paio d'anni, insomma, si fa questa operazione, e se stituisse il vaso, un po' un numero due più grande, un buon terriccio di nuovo fresco, concimato, ripeto, se non avete concime chimico o qualcosa, prendete qui i concimi che vanno diluiti in acqua per le piante d'appartamento, fate sempre l'operazione con la zolla asciutta, in questo caso con le mani, stringete un po' i rami, giusto per vedere se è al centro, e con l'altra mano buttate giù del terriccio. Una bella pestata, eccola qui. E la pianta, sarebbe bella vederla in ottobre, magari ci ricorderemo, ha cambiato aspetto. Altra cosa importante, però, quando avete fatto questa operazione, la pianta non mettetela esposta al sole, la portate all'ombra o sul terrazzo, nell'angolo più ombroso, dove ci sia ombra tutta la giornata, oppure lo portate giù in giardino, o da qualche parente che ve lo costudisca, in giardino, sotto all'ombra, sotto le piante. Mi raccomando, visto che avete le piante che le avete, non fatele attribulare, insomma, abbiate un po' di riguardo. Considerate, appunto, che sono esseri viventi. Enrico, ci hai raccontato la lavorazione, quindi l'olio essenziale e l'idrolato di lavanda, ma poi che prodotti vengono fuori? Quella che non essicchiamo, noi, appunto, la distilliamo. Parte di queste le diamo a un'azienda cosmetica che ci produce una crema a mani, un balsamo labbra e anche una crema a viso. Ecco, questi prodotti qua, che mercato ha? Noi rimaniamo con il banchetto in campi durante il periodo della fioritura. Abbiamo aperto un sito per l'e-commerce. Essendo noi un'azienda agricola, siamo praticamente agli inizi, non sappiamo ancora molto bene come gestire la cosa. Per adesso ci siamo trovati meglio con il banchetto nei campi. Noi abbiamo tre ettari. Il primo campo, quello più, con la lavanda più grande, due ettari. Mentre la lavanda più piccola, conterà ormai un ettaro. La lavanda più grande, che abbiamo piantato appunto tre anni fa, è una lavanda ibrida. L'abbiamo scelta perché, essendo la prima volta che piantavamo lavanda, abbiamo ricercato una varietà più resistente. Il secondo campo, con la lavanda più piccola, abbiamo scelto appunto una varietà che puntasse di più alla qualità. La lavanda in vicinanza del mare produce una più alta percentuale di canfora. Dalla distillazione abbiamo ricavato l'olio, che abbiamo fatto analizzare, però non abbiamo trovato queste alte percentuali di canfora. Per concludere, esperienza positiva? Diciamo che, essendo appunto i primi anni, non possiamo dire per certo se sia un'esperienza positiva o negativa. Pensiamo di espanderci con la cultura e eventualmente magari provare altre di nuove. Il tuo futuro lo vedi in agricoltura? Ovviamente vengo da un passato che mio nonno aveva le mani nella terra. Mio padre ha preso la sua passione e pian piano la sta ovviamente passando anche a me. Grazie, adesso le previsioni. Questo periodo si caratterizza per una situazione particolare che poi ha portato l'ondata di calore. Abbiamo avuto l'azione continua dell'anticiclone delle azzorre. Un anticiclone, oltre a tenere naturalmente lontano i sistemi perturbati, spinge le masse d'aria dall'alto verso il basso, dall'alta quota fino alla superficie. E questo vuol dire una compressione dell'aria. La compressione porta già a un aumento delle temperature. Poi, ripeto, in questo periodo questa azione anticiclonica si è associata all'azione di un promontorio, quindi di una configurazione anticiclonica che ha origine in Africa. Le temperature più frequentemente, sempre più frequentemente alte, straordinariamente alte durante l'estate, sono una faccia, sono un messaggio anche dei cambiamenti climatici. Ecco, anche questa è una caratteristica che spesso non viene ricordata, ma che si sta verificando forse in modo più frequente che altri fenomeni. Fine settimana, adesso, per agosto si caratterizzerà ancora con un tipo di tempo estremamente stabile. Anzi, raggiungeremo il picco del caldo, in quanto tra sabato e domenica i valori massimi in pianura saranno ben oltre i 36 gradi. Naturalmente, io ricordo ancora una volta che i 36 gradi, 37 gradi addirittura, sono delle temperature che per convenzione internazionale vengono rilevate in capannina, all'ombra. Ecco, per le attività all'aperto, addirittura sotto il sole, le persone o altre cose che devono stare sotto il sole devono sopportare temperature che si avvicinano ai 60 gradi. Ecco, questa per dirla tutta. Comunque, un fine settimana all'insegna del cielo sereno, una velatura durante le prime ore del mattino dovuta all'alto tasso di umidità, perché un'altra caratteristica associata al caldo è l'umidità, la grande presenza di vapore e acqua sospeso nei bassi strati dell'atmosfera. E questo rende un tipo di tempo che tecnicamente chiamiamo opprimente, quindi la dice tutta. Vedendo avanti, diciamo che la lunedì cambia, cambia gradualmente il tempo, in meglio sicuramente. Ci sarà un'azione sempre più presente di una depressione addirittura sul nord-est europeo, quindi da lì ci indirizzerà aria più fresca. Gli effetti saranno intanto un aumento della nuvolosità, che potrà essere anche intenso, il calore è forte, quindi sui rilievi del nord-est e sulle nostre zone pedemontane potrà dare qualche temporale anche di una certa intensità. Scorerà veloce, darà qualcosa anche in pianura, ma soprattutto abbasserà le temperature, in quanto poi da martedì, mercoledì, avremo una settimana all'insegna del tempo stabile, con temperature massime intorno a 28-29 gradi, quindi più umane. È tutto. E per le conclusioni siamo con il presidente di CIA Rovigo, Giordano Aglio. Presidente, abbiamo visto questa splendida cosa che è la lavanda nel Polesine. Ma che segnale è? Abbiamo visto tanti turisti che vanno a vederla, abbiamo sentito che è una cultura estensiva. Turismo e agricoltura è una cosa che vanno di pari passo. La lavanda sembra quasi un'idea da giovani, un'idea diversa, non si è mai vista la lavanda in Polesine. Ci vogliono idee nuove per la nostra agricoltura in Polesine? Ci vogliono giovani, ci vogliono idee nuove, ma le idee nuove vengono dai giovani. Dunque benvengano i giovani in questa nuova agricoltura, in questo nuovo territorio. Nuovi sistemi di lavorazione, nuovi mercati per dare più stimolo ai giovani. Perché noi abbiamo bisogno dei giovani per crescere, per aumentare le nostre mentalità di vedere orizzonti diversi. Dunque lavoriamo, zappiamo sui giovani per farli crescere i nostri agricoltori del futuro. Grazie Presidente, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la diamo a Gianni Marini, ai nostri proverbi e soprattutto agli attrezzi storici. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, sono qua insieme come amicolino. Eh, io ho proprio il caso di dire che questo sia in Mandoro. Perché io una volta veniva da Sonona, era troppo una sestea perché serviva per casa. Ma io era tutta quanta in Luginia, ancora 60 anni fa. E io ho guardato e ho detto, no, adesso basta tristarla che ne faccio una a me. E io ho copiata e io ho cominciato a farla. Parliamo di vecchia data. Questo è che era in uso una volta, che vorrei anche adesso perché la plastica è un po' rovinata per tutto. Questo qua invece, cosa c'è che serviva? Innava a torre assaiata e passava per l'orto innava a torre assaiata, le femmine dei contadini. Dopo passava per il puner e metteva dentro gli uovi. Ancora le patate, era le patatine, quelle belle nove, quelle andavano messe sotto la scaglia. E dentro e portava dentro questa roba. Oltre che portare questa roba dentro in cucina, serviva anche per scoiare il raiccio. Una volta messo dentro, quando io lo lavavo, io lo lavavavo un poco, e lo sbatteva e mi diceva Alino che sonona lo scollava proprio davanti alla cucina dove c'era il crudo di sassi, diciamo, e bagnava i sassi quando gli uomini arrivavano dai campi e si sbatteva i ciocchi così era scuso di far polvere. Le pensava tutte. Alino, cosa c'è che diciamo? Bravo, esperemo che continui a fare bene se stai, che sottito disse quello che c'è adesso di plastica. qui asso con un proverbio, a bellezza della cucina, a te a sestea pa' saiatina, che se ti agiri più in pianeta, a te suga anche il raiccio. Ciao e sempre forti!